Voci dalla tempesta. La tempesta è quella politica e mediatica. La miccia è la frase postata su Facebook dalla consigliera leghista Dolores Valandro sul ministro Cecil Chienghe. Così Padova torna nella bufera dopo la scritta tracciata con lo spray nero sui muri del liceo Cornaro a fine aprile. L'Italia non è meticcia, Chienghe rimpatriata subito. Il ministro proprio lunedì scorso era stata in visita alla città del Santo e aveva incontrato una rappresentanza di studenti per ricevere le scuse di quanto successo. La tempesta però, a quanto pare, non ha fatto in tempo a finire, che è già ricominciata da capo, a far discutere sempre una frase, non più sui muri di un liceo ma sulle pareti virtuali di Facebook. Siamo di fronte a parole ignobili, tuona il vicepresidente del gruppo PD alla Camera, Andrea Martella. Anche Rosi Bindi esprime la sua solidarietà al ministro e rilancia basta con il linciaggio costante e inqualificabile nei confronti di Chienghe. Passano le ore e i messaggi di condanna si sprecano fino a diventare un vero e proprio bombardamento di risposta. Un'instigazione all'odio e alla violenza rivoltante, dichiara Ettore Rosato, dell'ufficio di presidenza del gruppo del PD alla Camera. Dolores Valandro ha per caso inaugurato una sezione del Ku Klux Klan, si domanda a Manuela Palermi, segretaria nazionale del PDC. E mentre l'avvocato Aurora D'Agostino, ex consigliere comunale di Padova, ha già presentato un esposto in procura, i comunisti italiani si rivolgono addirittura al presidente della Repubblica, chiedendogli di pretendere che la Lega allontani la sua tesserata. Infine, sotto il clamore della polemica, si sente una voce, e quella giusta. E' quella del ministro per l'integrazione, Cecil Le Chienghe, che risponde «Questo linguaggio non mi appartiene perché istiga la violenza tutta la cittadinanza. Chiunque deve sentirsi offeso, non solo io». Grazie. Grazie.